La generatività sociale ha a che fare con il fiorire della vita che va sempre oltre di sé. Questo è un movimento della persona, dell'uomo e della donna che desidera mettere al mondo, creare, trasformare. Noi l'abbiamo studiata perché non è solo una questione che riguarda la singola persona, perché da questo movimento nascono organizzazioni, movimenti, imprese. Ma non è solo una questione di nascita, è questione anche della forma che prende, delle regole che queste organizzazioni possono assumere per rendere ancora possibile passare alle nuove generazioni questo movimento generativo. In questa epoca di crisi e di contrazione, il discorso della generatività apre di nuovo il futuro. In questa epoca di crisi e di contrazione, il discorso della generatività di crisi e di contrazione, Grazie a tutti!